Il ferragosto è passato da poco più di 48 ore, qualcuno è in vacanza, qualcuno andrà in vacanza a settembre, magari partirà, qualcuno in città, qualcuno al mare, ma senza dubbio per chi come me vive in una località di mare in qualche modo l'estate è finita. Certo si può andare al mare, si può comunque uscire, si possono fare tante cose che danno l'impressione che insomma inverno non è, ma la verità è che il ferragosto è solo un pretesto, per qualcuno agosto è un mese difficile, è un mese freddo, un mese in cui ci si abbandona un po' e ci si sente abbandonati. Iperturbazione ci hanno fatto un brano, ora solo chi vive questa attitudine capisce di cosa sto parlando e io credo che le persone in questione siano parecchie. A queste io invito a soffermarsi su questa perla. Iperturbazione sono un gruppo indie italiano, ma che insomma l'indie lo hanno portato prima che diventasse quello che è oggi, cioè un romanticismo smielato. Qualcuno può ricordarli, come me, per quel brano che venne famoso, se mi scrivi, che c'era nel finale quest'attore che faceva paura, in cui si trattava la tematica, diciamo, del messaggio, il cellulare, i primi amori, però si trattava in un modo talmente tenero che faceva impressione. Quella canzone faceva E questo solo perché, porca puttana, mi son proprio innamorato di te. E poi qualcun altro li ricorda per Sanremo quando hanno portato l'unica. Di loro ho già parlato nel featuring con D'Argent Amico, con te si chiamava la canzone, tra l'altro. Ecco invece adesso ne parlo per questa perla in cui si tratta proprio la tematica del cuore freddo durante l'estate. L'estate è sicuramente il mese più caldo dell'anno sotto ogni punto di vista, non solo climatico e sarà sempre di più a causa dell'uomo e del suo inquinare. Però è un mese dove le personalità più sensibili fanno fatica a un certo punto e dalla seconda metà, diciamo, di agosto e inizio settembre i giorni iniziano a diventare un po' più pesanti. C'è chi magari soffre proprio la calca, la gente, ok. Però c'è chi invece sta a metà e si rende conto un po' di tutto, delle luci e delle ombre. E io andrei sul testo, la canzone è bellissima, è proprio in pieno stile perturbazione, arrangiamento semplice ma molto efficace, brano di qualità lungo, non due o tre minuti, non è la canzone radiofonica, tutt'altro. E poi c'è questo tono che utilizza il cantante che è sempre così... fatto al modo giusto, nel momento giusto, dice la parola giusta, la canta come andrebbe cantata, non ve lo so spiegare. Cioè parte il piano e tu quando parte la canzone dici, ah cazzo così, così la stavo immaginando ma non lo sapevo. E dice agosto è il mese più freddo dell'anno. È un esordio pazzesco per il mese più caldo, no? Cioè quindi capite che è veramente forte. Io devo essere sincero. L'ho sentita il 16 di agosto, dopo il ferragosto, in una giornata in cui volevo un po' tirare le somme e sicuramente non mi sentivo emotivamente carico. Ho messo questo brano e a malapena riuscivo a respirare. L'inverno si sposta sei mesi in avanti e non è il polo sud. Agosto, la sveglia che rompe il silenzio. Qualcuno è in vacanza e lei suona per ore. Che freddo che fa. Dio, che freddo che fa. Agosto, ti affacci su un cuore malato. Le cinque di sera, ed è già buio pesto. L'inverno d'agosto. Il ghiaccio si posa e ricopre le cose. L'attesa del caldo congela anche i morti. Che freddo che fa. Se non è vero che non hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo, allora perché tremi? Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo, allora perché tremi in questo agosto? Agosto, l'hai scritto sul tuo calendario, forse hai dormito sei mesi, ma sei così stanco, tanto stanco. Agosto, è il mese più freddo dell'anno. Nell'altro emisfero lo chiamano inverno l'agosto. Se è vero che hai paura, se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo, perché tremi in questo agosto? Perché tremi? Perché tremi? Bella domanda, a cui non so rispondere. se è vero che fa così caldo e fa caldo, se è vero che siamo in estate, se è vero che siamo pronti ad affrontare un nuovo inverno, perché tremi amo? Sono tante le volte nella vita in cui mi dico devo essere forte, devo godermi questi momenti in cui sono in salute, in cui alcune cose vanno bene, no? Proprio perché poi domani ci saranno tempi bui. D'un tratto, quel 16 agosto, quindi due giorni fa, mentre ascoltavo questo brano mi rendevo conto che stavo vivendo un momento buio, che sicuramente quello che stavo provando era difficile da eguagliare tragicamente e niente, quando ci sono questi momenti io consiglio di stare zitti, di elaborarli, respirarli, non evitarli, perché poi piano piano si riparte, piano piano si trovano le forze, piano piano arriva l'inverno, un inverno che inizia ad avere il sapore dell'estate, perché senza dubbio quest'estate in modo particolare, un'estate in cui forse abbiamo riversato troppe aspettative, ecco quest'estate aveva proprio il sapore dell'inverno.